eccola qua la nostra penelope in ginocchio in ginocchio pronta per il servizio non pensate male mi raccomando per il servizio chi ti contatterà ti contatterà presto chi è chi contatterà presto chi è chi è e chi non è adesso finalmente lo posso mettere i testimoni le prese testimoni ne ho comprati un sacco di testimoni perché sapete che la mia festa la festa delle streghe sono letteralmente la pecorina perché devo prendere delle cose rendire coprire i testimoni dai in quadrupedia si dice mi raccomando per dire sei in quadrupedia penelope in quadrupedia prendi i testimoni anche le carte allora aspettate mia non è possibile non è possibile ecco la nostra ecco la nostra la nostra vedete vedete che abbiamo la frufu la frufu che cerca di infiltrarsi la frufu che cerca di infiltrarsi la frufu che cerca di infiltrarsi bene bene comunque lunedì mi raccomando ti contatterà ecco la nostra fai tu le carte frufu fai tu le carte frufu fai tu le carte frufu veloce penelope veloce penelope comunque lunedì ci sarà questa famosa stesa chi ti contatterà chi è e cosa vuoi come uno tre devi prenderne veloce veloce bene bene ci vediamo lunedì se penelope ce la fa se penelope ce la non fa